Nasceranno in questi spazi del casino delle guardie nobili di Palazzo Ducale, l'Accademia degli Artisti, la Galleria d'Arte Moderna della città di Mantua. Un progetto ambizioso messo in piedi da Palazzo Ducale e Comune che proprio oggi hanno siglato un accordo che andrà ad arricchire l'offerta culturale della città, in particolare quella del complesso Gonzaguesco. Un accordo a cui abbiamo lavorato in questi mesi con il direttore Locaso, avevamo entrambi la volontà di capire come ridare alla città e non solo alla città, anche ai tanti turisti, le tante opere che giacciono da sempre, devo dire da ormai 15-50 anni, nei depositi sia di Palazzo Ducale che di Palazzo Tè. E credo che sia un gesto di assoluto doveroso rispetto e amore verso la produzione artistica nel nostro territorio, in particolare il XIX e XX secolo, quello di poter rendere ancora fruibile, perché noi abbiamo bisogno non solo di riconoscere, ma abbiamo bisogno anche di tracciare la storia del nostro territorio anche attraverso la produzione artistica. Un accordo che riporta in vita spazi sconosciuti a più generazioni di mantovani, abitati fino ai primi anni 2000 e che nel giro di tre anni, promette il direttore del Ducale Locaso, accoglieranno opere di importanti artisti mantovani, situate ora nei magazzini di Palazzo Tè e che risalgono al periodo tra l'Otto e Novecento. Gli oneri della ristrutturazione e di progettazione come stabilito dall'accordo decennale saranno a carico di Palazzo Ducale, mentre i costi di allestimento saranno suddivisi tra le due istituzioni. Ciascuna delle due parti individuerà un responsabile scientifico sotto un coordinamento unitario che dovrà restituire la dovuta attenzione agli artisti che hanno fatto la storia della città negli ultimi due secoli.